Abbiamo questa voglia, questo dovere di fare una partita importante, proprio in virtù di cosa rappresenta. Allo stesso tempo abbiamo di allungare la classifica perché visto i tempi che corrono sicuramente riuscire a mettere punti in classifica sarebbe effettivamente importante. Pensavamo di aver fatto un certo discorso in precedenza, purtroppo non è ancora chiuso, lo sapevamo, però è chiaro, il derby è il derby. Pisano si è allenato ieri su ritmi un po' accentuati e oggi ha fatto la rifinitura, domani mattina decidiamo, è così anche Giulio. Non si sono mai allenati in maniera particolare in questo periodo, hanno fatto queste due sedute, uno dei due sicuramente giocherà, adesso vediamo. Perché rischio di perderli tutti e due strada facendo, visto anche il caldo e sarà anche una partita sotto l'aspetto fisico molto dispendiosa. Abbiamo giocato anche con il Palma, con due punti e un trequartista, per cui abbiamo giocato anche fuori casa e non ci sono problemi, vediamo. Sicuramente può essere anche una soluzione, ma come lo è stato altre volte. Sicuramente ha grande carattere, grande fiducia nei propri mezzi, capacità di gestire una partita, sicuramente di un certo tipo, a livello emotivo, contro una squadra che sta bene, una squadra che sta dimostrando tutto il suo valore. Per cui sicuramente c'è un coefficiente di difficoltà da parte nostra, più elevato che da parte del Catania. Però è normale che chi andrà in campo, penso che darà il tutto per tutto, assolutamente. Ho visto la squadra, nonostante la sconfitta in ripresa, devo dire, anche sotto l'aspetto, anche in virtù del primo tempo. Purtroppo il calcio è questo. Se la partita finiva a 45esimo avremmo tutti uno spirito e un atteggiamento diverso e vedremo le cose completamente da un'ottica diversa. Però il calcio è così, abbiamo fatto quei 20 minuti disastrosi. e nello stesso tempo però io sono, sull'aspetto lì, con i ragazzi abbiamo parlato, sono consapevoli di quello che potevamo fare, non l'abbiamo fatto, però sono consapevoli anche di quello che devono fare domani. Il calcio è un'ottica diversa